Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI rallentamenti per lavori tra Santa Croce, Sull'Arno e Montopoli-Valdarno in direzione Livorno. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola traffico rallentato per cantieri tra Capanne e San Romano in direzione Marina di Ravenna. In A15 fare attenzione per vento forte tra Berceto e Pontremoli e in A12 segnalato controllo della velocità attivo tra Cole Salvetti e la barriera di Rosignano-Marittimo in direzione Rosignano. Sulla statale 1 Aurelia chiusa una corsia per lavori tra Montenero e Livorno-Centro, segnalati poi straripamenti a 15 km prima del bivio per Carrara in direzione Genova. Muoversi di Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!